Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo questa mattina è il benvenuto della città agli studenti stranieri del programma Erasmus Welcome Day. La manifestazione è promossa dal servizio Europe Direct del Comune per accogliere i giovani universitari del programma Erasmus e favorire il rapporto diretto con le istituzioni europee, nazionali e locali. La mattinata, aperta dai saluti del sindaco Luigi De Magistris, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle università Partenope, l'Orientale e su Rorsola Benincasa e si è conclusa con una visita guidata a Palazzo. Ho dato il benvenuto nella città di Napoli, città in cui nessuno è straniero, in cui i popoli e soprattutto i giovani, ancora di più, si possono incontrare per confrontarsi, scambiarsi opinioni, sensibilità, culture, creare relazioni umane e contribuire efficacemente a costruire un'Europa diversa, in cui il Mediterraneo sia un cuore pulsante di pace e di prosperità. Quindi è un bel messaggio che Napoli sia sempre più cercata a livello internazionale. Credo che in questi anni si è fatto da questo punto di vista un ottimo lavoro. Grazie. 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 Grazie.